Bene ragazzi, eccoci con un nuovo video e oggi proverò la demo di Relay. Dovrebbe essere uno strategico turni, però bottoni. Vediamo se c'è l'italiano, anche se nel gioco dicono che c'è l'italiano. Normale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma si è bloccato? Ok. Mi sa che conviene shipparlo. Non carica il video. Non è mai fatta un po' a capio. Non è mai fatta un po' a capio. Non è mai fatta un po' a capio. Ok, condizioni. Ucciderò tutti. Ok. Possiamo cambiare il lavoro. Possiamo cambiare il lavoro. Ok. 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 Perchè la sua scermata? se lo fanno per qualche diritto ok attacco skin per attaccarlo non ti dice quanto fare di attacco prima? non ti dice quanto fare di attaccarlo quindi c'è un controattacco automatico non ti dice quanto fa? 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 ok 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 Grazie a tutti 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 No Grazie a tutti 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 Io penso di Grazie a tutti